ciao miei piccoli amici di my facebook oggi è il 12 dicembre oggi siamo al giro di boa si dice così mancano 12 giorni a natale e i 12 giorni sono passati siamo proprio a metà strada siete contenti io tantissimo ho trovato una bellissima filastrocca di rosalba troiano e l'abbiamo già conosciuta come scrittrice questa questa signora è bravissima sentite questa filastrocca si intitola giro tondo di natale ascoltatemi qui comincia il giro tondo di natale in tutto il mondo una festa di pace e di amore e di regali fatti col cuore a roma gesù bambino porta i regali ad ogni piccino si fa aiutare da babbo natale con le sue renne e una slitta speciale per noel lo trovi in francia lunga barba e grossa pancia dona a tutti i bimbi francesi giochi da fare per 12 mesi in olanda san nicola veste bianco e rosso viola mette negli zoccoletti con i doni anche i dolcetti a san paolo il tempo è estivo e il mantello rosso vivo papà natale fa molto sudare ma lui i regali continua a portare bon noel dirai a parigi merry christmas sul tamigi ma a natale ovunque andrai bontà e gioia in dono avrai mi è piaciuta a me tanto io mi innamoro di tutto quello che leggo in questi giorni ci vediamo domani con un altro racconto dell'avvento va bene ciao a domani ciao 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 ciao